Quante sono le vittime? C'è qualche traccia? Stiamo esaminando la scena del crimine. Quando avremo notizie, ve le comunicherà. E' vero che avete trovato delle videocamere? Vi daremo questi dettagli quando saremo pronti. Non intendiamo fermarci finché non sia fatta giustizia. L'esplosione ha deteriorato le prove. Li avete identificati. Non capiamo neanche se sono uomini o donne. Voglio seguire il caso. Ho già abbastanza guai, non voglio altre complicazioni. Hai bisogno di me. Lo sai che ti posso aiutare. Ci sei con il video? Catturato. Pronto in tavola. Un testimone mente. Una videocamera no. Vai. Sorpresa! Ecco il nostro lussuoso pulmino. Perché la telecamera? Sono una regista. Toglimi quella maledetta cosa dalla faccia. Che se toglimela dalla faccia! Ehi, la! Sembra che sia stato bombardato. È troppo buio. Ok. La voce è questa. Sembra un quiltello. Era tutto programmato. Giù la pistola! Sta giocando con noi. Per un serial killer. Uccidere è un'arte. Un modo di farsi nuotare. Corri! Mostra a tutti di cosa è capace. E non si ferma. Non può.